Lo stop arriva dal sindaco attraverso una delibera che di fatto congela i bandi per i concorsi nelle partecipate a Palermo. Il provvedimento in seguito all'avvio della campagna elettorale per le amministrative sarà quindi il nuovo sindaco a dare il via ai concorsi per le assunzioni nelle partecipate in città. Con l'approssimarsi della scadenza elettorale, spiega Leoluco Orlando in una nota, e in vista delle conseguenti elezioni amministrative in accordo con la Giunta, ho ritenuto non procedere all'emanazione di bandi per le nuove procedure concursuali che riguardano le dotazioni organiche delle aziende partecipate e che riprenderanno al termine delle elezioni. Si tratta di una delibera che, con forte senso di responsabilità e nel totale interesse dei cittadini, si pone l'obiettivo di vivere le prossime elezioni amministrative in un clima di serenità. Tutto fermo al momento quindi per le assunzioni all'AMAT, alla RAP e alla GESAP. AMAT che continua a tempo a essere in sofferenza proprio per la mancanza di autisti. Una situazione più volte messa in evidenza, poiché tanti mezzi sono costretti a rimanere irrimessa a causa di questa criticità. Stesse difficoltà per la RAP e la raccolta di fiuti, dove i nuovi eventuali assunti si sarebbero dovuti occupare di potenziare il servizio di spazzamento.